Ah sì? Dimmi ancora se sta avendo la pelle Ciao ciao! Eh vabbè, lui prega Cos'è stato? Bars era stato il vento Ah, l'ho trovato Mi ha detto Bifolco, hai sentito anche tu Ma ha detto Bifolco Ma ha detto Bifolco, stronzo Ma ha detto Bifolco Bene 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 bene, un cazzo Bene bene, un cazzo Sono incazzato come una faina incazzosa Oh, comunque, superando tutto questo Uh, una bandiera Gli ospitalieri Spieghiamo chi sono gli ospitalieri Sì, spiegalo tu che di storia capisci qualcosa Allora, cos'hai preso? Una robaccia Quello non aveva un soldo Solo un maledetto tubo Era solo un malocchino Un pezzo di carta con degli assurdi scarabocci Non sono scarabocci Sono parole e lettere Perché uno dovrebbe mettere parole e lettere in un tubo? Un tubo sprecato, secondo me Perché con quel tubo in effetti dovrebbe fare un messaggio nella bottiglia Ah, come l'altra volta No, non te lo lascerò fregare Ma quanto sei astuto Beh, divertitici Ma quanto sei figlio di troia Divertitici Deve ucciderlo Non è come sembra Sto solamente vedendo se questa trave va bene Comunque Io dovevo solo borseggiare questo tubo di merda Che stava dicendo prima Poi usciamo da qua Ciao bello Stai osservando il panorama? Che panorama E comunque finisce qui questo gameplay della EA Sports Siamo ancora a 6 minuti Sì, ma non hai contato quelli di prima? Ah, giusto Cosa di... Dicevo, finisce qui il gameplay della EA Sports di Assassin's Creed Alla prossima Qui da Vale93B E buona prematura Ciao Ciao